bella a tutti ragazzi sono Mirko bentornati su Ghibli Channel e su Spor allora ragazzi eccoci pronti ad iniziare un nuovo episodio ma prima di partire vi voglio dire che se ogni tanto nel video come qualcuno ha notato negli scorsi episodi vi capita di vedere un'interferenza un po' strana non è un qualcosa di mistico non sono gli alieni che cercano di comunicare con noi attraverso il nostro canale bensì è il gioco che mi crea questo problema con il programma di registrazione non so perché ogni tanto mi fa delle schermate rosse con dei disegni veramente abbastanza strani che praticamente danno quelle interferenze io ovviamente cerco di tagliarvele in video ma se capitano mentre dico qualcosa importante riguardo al gameplay o cosa chiaramente mi diventa difficile tagliarle quindi se vedete ogni tanto delle cose strane come detto non preoccupatevi è solo il gioco che mi sta dando questo problema ho tentato in tutti i modi possibili immaginabili adesso ho provato a cambiare nuovamente risoluzione al gioco vediamo se così non mi crea questo problema comunque noi siamo qua pronti a iniziare con la nostra schifida mi avete detto di farla blu effettivamente la vorrei ricolorare perché non è assolutamente male come come idea quindi vediamo chi è ok eccola qua la schifida pronta ad accoppiarsi con noi e fare zozzerie per creare un nuovo bellissimo schifido quindi mamma mia è veramente orribile tra l'altro mi avete consigliato anche di mettere parti diciamo che ci danno molto attacco infatti adesso proveremo a vedere anche questa cosa ma è cambiato l'uovo prima era blu adesso me lo fa verde vabbè ha cambiato colore l'uovo comunque vediamo un attimino cosa possiamo fare dunque adesso abbiamo questo che ci dà però il morso di livello 4 quindi mi sa che in realtà io gli ho già messo le parti più diciamo più cazzute alla nostra schifida gli ho messo questo che ci dà il colpo livello 1 questo ci potrebbe dare il colpo di livello 2 però la posa va bene non ce ne può fregare di meno non sono anch'io se dare i manipolatori e il colpo però ci toglie la posa però la posa al momento ci potrebbe servire effettivamente qua abbiamo lo scatto di livello 3 quasi quasi allora io questo gliele metto gli metto lo scatto di livello 3 che secondo me è decisamente meglio almeno possiamo anche scattare di più qua non dovremmo aver nulla eventualmente potrei anche mettergli magari al posto di questo potrei mettergli magari questo qua che ci dà un altro bonus diciamo sul colpo qua lo sputo la carica perché questo qua credo che vada messo qua nella coda fatemi provare a mettere via questo e mettergli bellissima così no vabbè ok bellissima sta cosa così veramente posso allungarlo un po io ho sempre un po problemi ah no ok era così oh perfetto vorrei provare a ok ecco qua la volevo mettere un attimino più diciamo in posizione più o meno diciamo così oh perfetto un po in posizione più eretta bellissima ok beh bellissima direi anche no però insomma ci siamo capiti bella mamma mia così così la voglio così la nostra nuova schifida mamma mia beh così anche siamo anche mimetici ragazzi siamo anche mimetici bellissima così la nostra schifida fantastica e come sono tutti felici e contenti ok ragazzi allora ho avuto un piccolo problema di registrazione purtroppo sto gioco mi dà parecchi problemi a registrare e a farsi registrare diciamo quindi oltre a quelle interferenze strane che probabilmente avrete appunto già visto di cui vi ho parlato all'inizio ho anche il problema che per l'appunto ogni tanto mi sminchia un po completamente tutto il gioco me lo chiude in finestra è un po difficile registrare quindi cercherò una soluzione comunque nel frattempo io appunto ero andato un po avanti ho messo queste ali alla nostra schifida siamo quasi arrivati alla fine della barra quindi io proverei ad andare ancora in giro sono piovute le meteore intanto adesso ci sono successe cose che mannaggia la miseria purtroppo non sono riuscito a registrare mi dispiace veramente tantissimo però non mi ero accorto appunto del crash del programma di registrazione e quindi è stato un bel problema ah ecco io tra l'altro ho perso anche una schifida perché ho beccato uno di livello 250 ci ha legnati malissimo sono dovuto scappare di corsa e quindi insomma è stato abbastanza problematico quindi livello 29 si sono tutti livello 29 ok facciamoci amico lui cioè in realtà facciamoci amico diciamogli di venire insieme a noi allora hai fatto la posa quindi te la faccio anch'io perfetto ok vieni con me schifido schifido 2 schifido 3 chi è che sei non lo so va bene dai allora andiamo di qua facciamo un po di scatto andiamo aiuto mi si è buggata la schifida oh cacchio no c'è di nuovo quello grosso no questo è quello grosso no in realtà no è livello 32 potremmo anche legnarlo eh no c'è quello grosso sì guardalo qua e ciao livello 1000 questo ed è anche incazzoso no no che andiamocene via eh ok mi inizio a ricordare queste cose di spor perché incontrate in giro bestie veramente veramente cattive quindi andiamocene di qua eh un bel casotto eh cioè non c'è una zona dove dove io possa stare un po tranquillo in realtà comunque a un certo punto ragazzi il gioco è iniziato a piovere meteore non so veramente che diavolo che diavolo è hanno messo delle cose che io assolutamente non mi ricordo e non mi pareva ci fossero prima beh questi anche non sembrano particolarmente cazzutelli livello 32 eh però c'hanno una bella coda eh vediamo se riusciamo a farci gli amici questi perché questi qua mi sa mi sa che sono un po' cazzutellini tra l'altro gli ho messo anche il fascino con appunto quelle alette qua ok stanno ballando quindi balliamo anche noi ok non ho tantissimo come ballo però vediamo se riusciamo lo stesso a impressionarli andiamo nel canto ma no nel canto devi farmi vai riproviamo e non abbiamo tantissimo abbiamo il fascino che livello 3 no no in realtà no è sempre qua allora canto con l'uno vediamo se riusciamo a impressionarli ragazzi questi cantano ancora eh non credo ce la facciamo nel canto siamo un po' delle pippe no infatti no e sta diventando sempre più difficile trovare diciamo degli animali che abbiano un livello comunque più basso del nostro noi adesso siamo a livello 29 beh questo è livello 25 allora andiamo all'attacco ragazzi non ho anche fame e devo attaccare ragazzi quindi andiamo all'attacco e via ok vai intanto qua mangiamo perfetto ok questi stanno scappando quindi noi direi di andare all'attacco assolutamente vai con lo sputo vai 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 carica carica ok vai 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 all'attacco l'attacco ho fatto lo sputo velenoso bella lì bella lì vai ormai abbiamo quasi finito ragazzi abbiamo quasi completato il tutto questo è livello 50 no ok questi sono cattivi questo cos'è ah perché è vero noi abbiamo le mani possiamo anche prendere il bastone perché possiamo anche manipolare vai vai l'attacco l'attacco ah gliel'abbiamo tirato no vabbè che figata che figata che spettacolo vai schifi dell'attacco e vai che ce l'abbiamo fatta grandissimi ok abbiamo aumentato il nostro cervellino guardali che roba boom è diventato sempre più grosso anche noi ci ingrandiamo sempre di più come del resto accadeva nel brodo primordiale tutto quel dna ti è dato alla testa con un cervello così grande ora puoi aggiungere una terza creatura al gruppo fantastico iniziamo ad andare in tanti cazzuti cattivi ok quindi direi di andarcene assolutamente cos'è sta roba no ho mangiato la ma vaffanbagno ho sbagliato ho mangiato la la frutta pensavo fosse un robo da prendere vabbè chi è che stanno massacrando ah cacchio c'è quello grosso ok andiamocene via che c'è quello mamma mia se è grosso quello là via 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 è solo che la mia casa è proprio di qua quindi proviamo a fare il giro e scappare via da quello grosso via via schifide schifide andamocelo oh cacchio anche qua ci sono quelli brutti vai vai andiamo ce ne va ok ah siamo tornati a casa mamma mia che burdello che burdello ragazzi è un casino qua mannaggia ok allora intanto possiamo aggiungere un siamo di livello 44 ottimo quindi aggiungiamo un'altra schifida ok hai fatto la posa va bene te la faccio anch'io perfetto che stai facendo ah no sbagliato cos'è che avevi fatto non lo so mi sa che abbiamo sbagliato vabbè ci riproviamo vieni qua schifida dove vai ah no il fascino è ah ok il fascino è questo qua e ogni tanto me lo confondo ok si fascino della nostra schifida è veramente un qualcosa di assurdo però va bene allora vediamo con questa se riusciamo a aggiungere qualche altro pezzo alla nostra schifida che ormai è veramente diventata una roba inguardabile sempre più inguardabile anche con questa sorta di ali che le ho messo mamma mia mamma mia che zozzeria ecco fai l'uovo però sono riuscito a metterla in posizione appunto un attimino più eretta insomma va bene va bene un altro uovo fatto oh perfetto allora allora lo scatto il fascino va bene e la salute non sarebbe stata male ma ah beh però abbiamo questo salute di livello 3 non sarebbe male questo ci aumenta un po' la salute tipo una pinna da squalo gli ci manca effettivamente una bella pinna da squalo la nostra schifida mettiamola qua dai mettiamola qua mettiamole qua pure la pinna da squalo bella mamma mia mamma mia cosa sta diventando la nostra schifida non so più dove metterle le cose devo dire questo ci aumentava la carica e però si adesso non ho più punto ok ecco qua la nostra schifida con la pinna da squalo sulla schiena modifica che l'abbiamo appena fatto guardate qua che bella pinna che ci dà della salute aggiuntiva così siamo un attimino più cazzuti e cattivi manca in realtà solo un altro diciamo un altro step per aumentare per aumentare ah si devo imparare ad affascinare si si ok ora te lo faccio ok vabbè affasciniamo tutti ok questi sono di livello 50 noi sono di livello 46 gli altri ah no questa è 46 ok bella lì perfetto si tutti livello 46 ottimo ottimo direi che siamo diventati ancora più grossi guardate qua quanto stiamo diventando grossi e quanto soprattutto stiamo diventando sempre più immondi e inguardabili va bene ragazzi allora io prendo questo bastone così me lo tengo anche già in mano bellissima cosa che possiamo lanciare le cose agli altri questo è di livello 50 questo com'è? ma glielo possiamo regalare? non ho capito ti regalo il bastone ti può piacere? cioè gli abbiamo dato il bastone e quindi che cosa cosa se ne fa del nostro bastone? non lo so non ho la più pallida idea però quelli stanno andando in là mi sa che stanno andando a migrare credo che stiano andando via a migrare e va bene però insomma noi siamo pronti per fare un nuovo step per passare poi appunto a quella che è la fase successiva della nostra storia evolutiva va bene ragazzi dai io direi che posso concludere qua questo nuovo episodio dedicato a Spore come sempre vi invito a lasciare un sacco un sacco di like e mi raccomando per sostenere questa serie che vi sta piacendo veramente veramente tanto perdonatemi per un po' di problemi di registrazione come detto adesso proverò anche con altri programmi perché sto facendo veramente veramente fatica a registrare senza intoppi e inconvenienti quindi spero di riuscire a risolvere se avete qualche consiglio ovviamente lasciate uno qua sotto nei commenti e soprattutto iscrivete al canale se non siete ancora iscritti e attivate mi raccomando la campanellina delle notifiche detto questo io vi saluto ci becchiamo al prossimo gameplay ciao belli ciao